Divertitevi Chi è? Guardia di finanza Guardia di finanza Cercetto Sono Simone Ciao Guarda se non erro ho dimenticato la mia borsa da te, cioè da lei Ma lei chi? Lei? Non ci diamo del lei? Ah, lei io! Sì, ma mi di del tu Eh, ma continui a darmi del lei Scusami, dicevamo? Ah sì, la borsa Com'è che è fatta? Allora, è una borsa marrone con manico, la tracolla e ha tre tasche esterne interne Mi spiace, però qui non c'è nessuna borsa Ah no? Perché me la fai descrivere? Per conoscerci meglio Bene, ci siamo conosciuti Buona giornata Aspetta, aspetta No, è perché ho dimenticato anche un'altra cosa È il guinzaglio del cane No, qui non c'è No, la penna Ho dimenticato la penna Ho capito, non mi vuoi far entrare? No, è che ci sono delle mie amiche nude Cioè, per il caldo Ragazze, può entrare il maresciallo? Sì! Venga, venga. Rossana, Margi e mia nonna. Salve, piacere. Signora, com'è andata a Chianciano? No, quando gioca a burraco è concentratissima. Muta come un pesce. Vieni. E questa è la penna? Sì, è proprio lei. Beh, lo so, è ridicolo. Cioè, venire qua per una penna... Che in realtà ti devo dire una cosa. E credo non ti piacerà. La cosa difficile da dire. E forse non è nemmeno il momento di dirtela. Quindi, vabbè, la dico un'altra volta. No, no, ti ho detto che te la dico. E allora io lo dico. Te la dico. Claudia, l'ispezione fiscale era solo un pretesto. C'era un altro motivo. Ti dispiace dirmelo prima che mi arrivi un infarto? Vestiotti. Eh? Vorrei uscire con te a cena. Ecco, lo sapevo, ho sbagliato. Non lo dovevo dire. Ma perché? Mi viene così, lo dovevo dire. Ho pure un gelato piccolo. Perfetto. Andiamo, vieni. Andiamo.